bella a tutti ragazzi saluto a mirko e bentornati su gameplay channel e su 60 secondi allora amici siamo tornati su 60 secondi continuiamo quindi la nostra avventura che insomma stava andando piuttosto male se vi ricordate allora vai che continuiamo giorno 25 però intanto abbiamo fatto comunque 25 giorni di sopravvivenza ma come vedete a parte timi siamo veramente messi male timi ad ora il succo di mele ma ora dovrei bere un po d'acqua dove l'acqua quando te ne ha bisogno ok devono bere tutte e due quindi diamogli da bere e andiamo allora stato del deserto resta per non incognita forse dovremmo rischiare uscire dopo tutto si vive una volta sola si dovrei uscire però per il momento non possiamo quanto saremo disposti a dare per poterci godere di nuovo il sorgere del sole non possiamo certo dire che sia un eccesso di luce solare in un bunker sotterrano e neanche avere aspettative che la cosa cambi presto e si ammessi male ragazzi tanto abbiamo la maschera antigassarotta abbiamo perso la valigia la radio abbiamo pochissime risorse eppure è meglio essere sicuri qua giù che morti lassù timi è molto coraggioso nonostante le circostanze terribili e pericoli possiamo incontrare la vita difficile nel bunker lascia il suo segno ted all'aspetto davvero miserabile effettivamente allora quando non gli diamo nulla provare che non possiamo mandare nessuna espedizione quindi purtroppo per il momento nulla da fare giorno 27 ted è messo sempre peggio mamma mia com'è conciato timi forse non sembra mai un ragazzo forte sa che va bene ted può aspettarsi delle belle cicatrici sempre se queste ferite si cicatrizzeranno non gli diamo nulla timi troppo stanco per fare escursioni però in teoria sta bene non riesco a capire le nostre scorte sono molto limitate stiamo diventando diventando sempre più disperati sappiamo che nelle vicinanze c'è un gruppo di sopravvissuti dalla casa di cura per gli anziani prestare a per gli anziani prestare qualche oggetto non dovrebbe essere un problema abbiamo bisogno delle scorte più di loro si dire assolutamente di sì mamma mia come conciato ted ragazzi fate qua manata di sangue che casino e si ha messi male lo dobbiamo fare per la nostra famiglia dovevamo non lo voglio ricordare più possiamo parlare di qualcos'altro ad esempio di zuppa abbiamo trovato quattro scorte d'acqua comunque ti da timi adoro il succo di mele ma ora doveva bere un po d'acqua ok devono bere tutte e due però per fortuna di acqua ne abbiamo trovata un po e ora di selezionare qualcuno per fare i giro per la stazione sì ma non mi fa selezionare nessuno riesco a capire perché timi non può andare perché in realtà non è messo male come fine no no ragazzi purtroppo è morto ted è morto ted a casa delle ferite ted davvero non stava bene avremmo dovuto medicare le ferite quando ha contratto un'infezione era troppo tardi di tutti i posti dove avremmo potuto crepare questo presenti il migliore o anche no siamo sopravvissuti per 29 giorni che ragazzi abbiamo fatto quasi un mese di sopravvivenza qua ci fa vedere il ripilogo e purtroppo ragazzi la nostra avventura non siete sopravvissuti effettivamente no non siamo sopravvissuti ragazzi però comunque vabbè questa è stata la primissima esperienza su 60 secondi che come detto io non conoscevo quindi in realtà l'ho giocato con voi assolutamente per la primissima volta quindi abbiamo visto che ovviamente il gioco può anche finire male come del resto è finito è finito nel peggiore dei modi naturalmente la serie comunque andrà avanti perché vedo che vi piacerà quindi inizieremo nel prossimo gameplay una nuova partita questo sarà un po corto però del resto è finito in modo abbastanza tragico quindi direi che a questo punto inizierò una nuova partita però dal prossimo gameplay così iniziamo una nuova avventura da capo voi mi raccomando anche se è stato un video un po breve comunque un bel po di pollici in su per far continuare la serie cerchiamo anche qua di arrivare almeno 50 condividete con vostri amici sui vostri social e soprattutto commentate commentate tantissimo detto questo amici a questo punto noi da 60 secondi ci salutiamo ci ribichiamo nel prossimo gameplay ciao belli